Sporting Montesacro Cantalice 0-4 e Vicovaro Futbol Montesacro 2-0, questo ha un risultato importante in chiave classifica come vedremo tra poco. Nelle girone C, Atletico Benzizza Pianduetorri 2-2, Indomita Pumezia Montesambiaggio 2-2, Ostia Antica Centrosportivo Primavera 1-5, Palocco V3 Roma Team 0-0, gare iniziate in ritardo, Rodolfo Morandi Pescatori Ostia 1-3, Terracina Atletico Ciglia 4-0. Alle 15.00 entra Fonte Meravigliosa Sabaudia, Nuova Cosa Latina Santa Maria delle Mole e Polisportiva De Rossi Virtus Ardea. Concludiamo i risultati con il girone D, Atletico Torrenova, Atletico Zagarolo 1-1, Colleferro Roccapriora 2-2, Giardinetti, Atletico Morena 0-1, Lupa Frascati Ferentino 1-0, nessun gol tra Polisportiva De Chiena e Monte San Giovanni Cappano, se ne sono arrivati ben sei, divisi tre per parte, tra Torre Angela e Lodigiani. Alle 15.30 Nidrella e Alcassino, Cervaro contro Roccasecca, si è giocata ieri, Alatrice Cano terminata 2-1. Andiamo a vedere le classifiche della promozione partendo con il girone A dove il fiumicino è in testa con 13 punti, a 10 c'è il Cerveteri, poi Nuova Pescia Romana e Montemari a 9, Grifone Gialloverde a 8, Montalto, Santa Marinella, Luis, Canale Monterano e Tolfa a quota 7 punti, l'Almas segue a 6, a 5, Montefiascone, Ronciglione, a 4, il Bomarzo, insieme al Fregione Maccarese, a 3, la Vigoro Acquapendente, a 2, la CLS Soccer e a 1, la Doccallese, hanno una gara in meno. Montalto, Santa Marinella, Almas, Roma, Montefiascone, Fregione Maccarese e CSL. Andiamo con il girone B, un girone B che vede la caduta della prima in classifica del football Montesagro, adesso sorpassato dal Riano che è in testa della classifica con 13 punti. A 12, oltre alla squadra di Montesagro, c'è il Sant'Angelo Romano, a 11, il Fiano Romano e a 10, l'Avis Subbiaco. Via via tutte le altre, ovvero Cantalice a 9 punti, Zena e Vicovaro a 8, Vicovaro in netta ripresa dopo il cambio dell'allenatore, 7 Bagni e la Rustica a quota 7, a 6, BF Sport e Momentum. Vediamo se ci sono, no, non ci sono squadre a 5, quindi 4, Passo Corese, a 3, Certosa e Guidogna, a 2, Amatrice e Novauto, a 0 lo Sporting Montesagro con Amatrice e la Rustica, che giocheranno oggi pomeriggio alle ore 15.30. Nel girone C abbiamo l'unica squadra a punteggio pieno tra tutte le 6 classifiche che siamo andati a dare, ovvero il Terracina, una squadra che secondo gli esperti partiva comunque con i favori del pronostico, era data da una delle migliori squadre di tutta quanta la promozione, lo sta confermando nel girone C che guida con 15 lunghezze, a 12, Celle Centro Sportivo Primavera, a 11, Atletico Benzizia e Indomita Pomezia, a 10, la Pescatore Ostia, a 8, la V3 Roma Team, poi a 7, Polisportiva De Rossi, Fonte Meravigliosa e Palocco, a 6, L'Ostia Antica, a 4, Nuovo Cos Latina, Atletico Ciglia, Pian Due Torri e Monte San Biaggio, a 3, Santa Maria delle Molle, Rodolfo Morandi e Virtus Ardea, a 0, il Sabaudia, Sabaudia che ha una gara in meno come Ardea, Santa Maria delle Molle, Nuovo Cos Latina, Fonte Meravigliosa e Polisportiva De Rossi che giocheranno tutte quante oggi alle ore 15.30. Concludiamo con il girone D, a 11 c'è l'Atletico Torrenova, primo in classifica, seguono a 10, Ferentino, Atletico Cervaro e Lupa Frascati, qui il Cervaro ha una buona occasione per portarsi al primo posto solitario, oggi pomeriggio giocherà in casa contro il Roccasecca Fanellino di Coda, seguono in classifica a 8 c'è l'Atletico Morena, a 7 Anitrella, Torreangela, Roccapriore e Colleferro, a 6 Real Cassino Colosseo, Alatri e Tecchiena, a 4 ceccano e Atletico Zagarolo, a 3 il Giardinetti, a 2 la Lodigiani e a 1 appunto il Roccasecca Terra di Sant'Omaso. In privato Riccardo Troiani ci ha dato il finale, Rodolfo Morandi 1, Pescatori Ostia 3, quindi come l'avevamo lasciata prima, facciamo un rapido giro anche del settore giovanile, cominciando dal girone A dell'Under 17, Certosa Procisterna 1 a 0, Urbetevere Polisportiva Carso 1 a 1, Falaschia Lavigno Romuli a 0 a 0, Grifone Monteverde Ostia Mare 1 a 3, stesso risultato anche fra Montespaccato e Ladispoli, 1 a 1 il finale di Torsapienza Palocco 0 a 4, fra Santissimi Michele Donato e Virgor Perconti a 3, di Colbalonga 0 a 3. La classifica dopo questa giornata, vede al comando la Vigor Perconti con 9 punti, 3 partite, 3 vittorie per i Romani, seguiti dalla Romulia e dall'Albalonga quota 7, poi Ladispoli 6, Urbetevere e Tostia Mare 5, 4 lunghezze per il Palocco, il Torsapienza e il Certosa, chiudono Montespaccato, scusate, Montespaccato ed Atletico e Falaschia Lavigno 3 punti, Polisportiva Carso 2, Grifone Monteverde 1, Santissimi Michele Donato 1 punto, chiude il Procisterna a quota 0. Spostandoci di raggruppamento, passando al girone B, Cittadinani, Torsapienza Pomeridiana, poi Villalba, Tor di Quinto 2 a 5, Redinvirate fra Savio ed Atletico 2000, Tor Tretteste 2, Accademia Calcio Roma 1, pareggio per 1 a 1 fra Monterosi e Giardinetti ed anche fra Lodigiani e Trastevere, 5 a 3 fra la CSS Tivoli e l'Ottavia, il Città di Ciampino ha battuto il Ponte di Nona per 2 a 1. La classifica vede al comando a punteggio pieno il Tor di Quinto con 9 punti, poi Lodigiani e Trastevere a quota 7, 6, le lunghezze del Città di Ciampino e del Trastevere, 4 punti per Savio, Villalba e Giardinetti, 3 punti per CSS Tivoli, Cittadinani ed Atletico 2000, 2 le lunghezze del Ponte di Nona e del Monterosi, Accademia Calcio Roma e Torsepienza a quota 1, chiude l'Ottavia con 0 punti. Allora andiamo a vedere invece i giovanissimi, l'Under 15, nel girone A si sono giocate tutte le gare questa mattina, Atletico Terme Fiuggi Latispoli 1 a 3, Aurelio Romule a 0 a 3, CSS Tivoli Alba Longa 2 a 0, Grifone Monteverde Campus Euro 5 a 0, Monterosi Ottavi a 0 a 2, Ostia Mare Savio 1 a 1, Totti Socce School Nuova Dorseteste 0 a 4 e Urbetevere Atletico 2000 3 a 2. Questa è la classifica dopo 3 giorni di campionato, Nuova Dorseteste a 9, Savio e Urbetevere a 7, Ladispoli, Atletico Terme Fiuggi, Ottavia e Grifone Monteverde a 6, Ostia Mare a 5, Campus Euro e Romule a 4, CSS Tivoli e Totti Socce School a 3, Aurelio e Atletico 2000 a 1, Monterosi e Alba Longa chiudono la classifica a 0. Nel raggruppamento B invece 6 gare si sono giocate questa mattina, Accademia Frosinone e Grifone Giallo Verde ha terminata 4 a 0, 4 a 2 tra Cassino e Colleferro, poi Città di Ciampino Vigor per Conti 2 a 1, Giardinetti Trastevere 2 a 0, Polisportiva Carzo Sanza 1 a 1, Procalcio d'Orsa Pienza Lodigiani 2 a 1, Nel pomeriggio Accademia Calcio Roma Aprilia Racing Club e Tordi Quinto Santi Michele Donato. Questa è la classifica, siamo arrivati anche qui alla terza giornata di campionato, Accademia Frosinone e Giardinetti primeggiano con 9 punti, poi il Sanza a 7, Accademia Calcio Roma e Procalcio d'Orsa Pienza a 6, Cassino a 5 punti, a 4, Tordi Quinto e Polisportiva Carzo, a 3, Città di Ciampino, Grifone Giallo Verde e Vigor per Conti, a 1, Lodigiani, Aprilia Racing Club e il Trastevere, a 0, Santi Michele Donato e Colleferro. Ricordiamo che Santi Michele Donato e Tordi Quinto come Accademia Calcio Roma e Aprilia Racing Club dovranno giocare nel pomeriggio. E allora, prima di salutarci per questa domenica andiamo a leggere quello che è il programma gare del prossimo turno, così già da avere un'idea di quello che ci aspetta fra sette giorni il nostro meraviglioso calcio regionale. Cominciando dall'eccellenza Girone A, per quanto riguarda domenica 13 ottobre, il programma gare prevede Sporting, Gensano, Eretum, Monte Rotondo, Boreale, Donorione, Anzio, Civitavecchia, Vigor, Perconti, Unipomezia, Ottavia, Villalba, Ocras, Moca, Tivoli, una derby della via Tiburtina, Falaschi, Lavinio, Virtus, Nettuno, Monti Cimini, Cinzia, Real, Monte Dondoscalo, Corneto, Tarquinia, Monte Spaccato, Savoia, Aranova. Passando all'altro girone dell'eccellenza Laziale. Formi a Idri, Vissezze insieme a Osonia, Atletico Lodigiani, Procisterna, Latina Scalo, Sermoneta, Arce, Palestrina, Sora, Morolo, Casalbarriere, Atletico Vescovio, Astrea, Gaeta, Pontigna, Città di Pagliano, Eudace, Campus Euro, queste le gare che si giocheranno la prossima domenica, la seconda domenica ottobre, domenica 13 ottobre. E allora passiamo alla promozione. Girone A, domenica prossima, Monte Piascone, Canale Monterano, Tolfa, Ronciglione United, Fiumicino, Montemario, Bomarzo, Città di Cerveteri, Luis, Almas, Gallese, Montalto, Nuova Pescia Romana, Vigor, Acqua Pendente, CSL Soccia, Raghifone, Giallo Verde, Fregene, Maccarese, Santa Marinella. Girone B, Cantalice, Momentum, Larusti, Cariano, BF Sport, Nuova Auto, Pro Roma, Vissu, Biaco, Guidogna, Zena, Monticeglio, Certosa, Fiano Romano, Sporting, Montesacro, Football, Montesacro, Amatrice, Settebagni, Vicovaro e Sant'Angelo Romano, Passo, Corese. Per quanto riguarda invece la promozione Girone B, c'è un istante, un problema a caricare il sito, convenienti tecnici, passiamo al raggruppamento, passiamo al D e poi recuperiamo. Sì, allora nel D avremo città di, avremo anzi, città di Montessan Giovanni Campano, Colleferro, Real Cassino, Alatri, Ceccano, Atletico Cervaro, Rocca Priora Giardinetti, Atletico Morena, Torre Angela, Roccasecca, Polisportiva, Tecchiena, Fenentino, Anitrella, Atletico Zagarolo, Lupafrascati e Lodigiani, Atletico Torrenova. Ricordiamo che oggi pomeriggio si concluderà il Girone D con Atletico Cervaro, Roccasecca e Anitrella, Real Cassino, Colosseo, questi. Abbiamo parlato, fulvio, sia degli incontri di oggi che di settimana prossima, possiamo andare a vedere invece il Girone C, quello attualmente comandato dal Terracina, se vuoi ne parlo io, e allora, Montesan Biagio Palocco, Atletica Ciglia Nuovo Costa Latina, V3 Roma Team, Atletico Bainzizza, Pian Due Torri, Fonte Meravigliosa, Centro Sportivo Primavera, Indomi da Pomezia, Virtus Ardea Terracina, Pescatori Ostia, Polisportiva De Rossi e Sabaudia, Rodolfo Morandi. E allora Paolo, per questa domenica, anche per questa domenica, è davvero tutto, io ringrazio la squadra di inviati di questa giornata, a cominciare da Alessandro Natali che da Roma è arrivato fino a Monte Rotondo per Eretum, Monte Rotondo, Univo Mezzia, un grande ringraziamento anche a Domenico Santucci per Tivoli 1919, Monte Spaccato, a Riccardo Torriani, che ha seguito Rodolfo Morandi, Pescatori Ostia, ringraziamo in maniera speciale Matteo Palombi al suo esordio radiofonico per Ronciglione Fiumicino, ringraziamo anche l'IDTV per l'interconnessione dal match Palestrina-Sora, ringraziamo i ragazzi di Radio Roma Futura che ogni domenica ci ospitano, Paolo, siamo giunti veramente al capolinea, ci sentiamo domenica prossima. Allora, saluto anch'io, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori, e sì, ci sentiamo appunto domenica prossima per quella che sarà la sesta giornata dei campionati di eccellenza e promozione. Buona domenica anche da me, Fulvio Ventura, a presto! Buona domenica! Sous-titrage Société Radio-Canada Transcription by CastingWords Transcription by CastingWords Transcription by CastingWords